Non è una rapina! Non li voglio i salvi! Rossi, hai fatto bene. Qua c'è qualcosa come 20 milioni. A ricordo di precisione, sono 26. Io non volevo. Scusate! Ho un piano. E dove scappi? Ti troverai seduta in un silenzio. E dove scappi? Per una strada che stanotte ti ci perdi dentro. Visto che domani probabilmente moriremo. Non è per niente male essere qui con voi. Non abbiamo paura di voi! Sei riuscito a non dare nell'occhio? Mi hanno riconosciuto tre persone, abbiamo fatto una fotoricordo, ho regalato 100.000 euro a una commessa, altri 100.000 euro a una vecchietta, sì, non ho dato dell'occhio. Bravo.